Allora, leggo il passo appunto di Bascapè. Con la scomparsa dell'antico canale si è chiusa per sempre una pagina di storia e di vita cittadina. Si è modificato radicalmente il paesaggio, il carattere della città antica, liquida fascia che avvolgeva il fitto nucleo medievale e che rappresentava una pennellata tipica, uno dei tratti fisionomici del volto di Milano, una delle basi del suo folclore. Gli urbanisti, gli igienisti, tutti coloro che in nome del progresso e degli inarrestabili sviluppi della città moderna hanno combattuta e vinta la battaglia contro il naviglio ci consentano almeno di ricordarlo e di rimpiangerlo. Caro vetusto fossato, la Milano vecchia. Non ti dimentica, essa serba nel cuore il ritratto fedele del suo naviglio, ora bello, ora brutto, ora rustico, ora raffinato, ma sempre patetico, come l'immagine di una cara persona scomparsa di cui si obliano facilmente i difetti e si commemorano soltanto i pregi. Ricorda le tradizioni, gli aspetti, il colore inconfondibile del canale, specchio del cielo nel cuore della città, fresca vena, alimentatrice di orti e di giardini, memore dei fasti della storia civica. Ecco, e poi un altro passo, si rammentano i ponti che avevano sapore di medioevo ed erano stati testimoni della rinascita di Milano dopo la vittoria sul Barbarossa. Erano certo più intonati con la cerchia turrita del 1170 che non con le urgenti necessità di spazio e col traffico vorticoso della città novecentesca che li volle sacrificare. Ecco, non ci resta che cantare, con una punta di rimpianto, l'epicedio del vecchio naviglio e ripercorrerne ogni tanto con la fantasia l'antico tracciato, rigustare la poesia dei ponti sul lento trascorrere delle acque, la sinfonia dei riflessi, la grazia dei giardini e dei palazzi che con esso componevano un quadro amabile e suggestivo. E rievocare i secoli della sua storia e il significato simbolico della rossa cintura di muraglioni merlati e turriti, irti di rocche, di fortificazioni, di passerelle mobili, qui parla ovviamente delle mura medievali che, come dire, al di fuori delle quali scorreva appunto il naviglio, irti di rotte, di rocche, di fortificazioni, di passerelle mobili e di ponti levatoi sul canale, baluardo e scuro della città, autentico palladio delle nostre antiche libertà comunali. Questo è il motivo per cui, secondo me, un vero milanese, una persona che ami questa città nonostante tutto, non può non applaudire e non può non sostenere l'iniziativa dell'architetto Boatti. Certo, ci sono molti problemi, però io credo che si possono affrontare, i soldi non mancano perché Milano è una città produttiva, è una città ricca e, secondo me, se una persona vuole fare, perlomeno vuole rendere Milano una città più vivibile, per tutti, non solo per i milanesi, per tutti gli italiani e per tutti gli stranieri che vengono e che vi soggiornano, non può che sostenere questo progetto. Ecco, e poi volevo citare, qui finisco, non vi tedio più, non vi annoio, un altro bel volume, questo ripubblicato, grazie a Dio, dalla libreria milanese, se non erro, io qui ho l'edizione originale degli anni Sessanta, si intitola Innaviglio, è un volume stupendo per i freggi tipografici, per i freggi tipografici e soprattutto ovviamente anche per le poesie e per le riflessioni che vi sono scritte. È un volume pubblicato nel 1886 dal Pio Istituto dei Rachitici di Milano, guardate i freggi, io sono un appassionato di, come dire, di libri antichi, è veramente stupendo, sono veramente freggi, e poi sono freggi stupendi, veramente, e qui è veramente, anche qui questo libro è pieno di poesia, pieno di immagini fantastiche, lo si può appunto, è stato ristampato, questo è veramente una felice iniziativa da parte della libreria milanese. Un ultimo volume che vorrei citare, che purtroppo temo che non si trovi più questo, anche se è un'edizione recente, è edito da, si intitola il Museo dei Navigli, i miei navigli, di Gian Antonio Ricotti, Gian Antonio Ricotti è stato un, come dire, non so se sia ancora vivo, spero di sì, questo volume è stato pubblicato negli anni, credo negli anni 80, in quel periodo lui era un imprenditore, era presidente di un gruppo di società del milanese che operava nel settore automobilistico, non so se tuttora sia attivo, consideriamo appunto che questo volume è vecchio di quasi 20-30 anni, e Gian Antonio Ricotti indubbiamente è stato anche un grande poeta, e lui ha scritto questa poesia che vorrei citare da questo volume, appunto, i miei navigli, se lo trovate prendete perché è un bel volume, anche questo qua sui navigli, ecco, i miei navigli, riguardante appunto la chiusura del canale, cito due poesie, questa è la prima, su non piangere naviglio, gli eroi non batton ciglio, ti prometto che un bel giorno in San Marco dove entri, qui tra parentesi si riferisce al naviglio martesana che appunto si, come dire, confluiva nella fossa interna all'altezza della chiesa di San Marco, in zona brera, in piena zona brera, pensate che bella che è a Milano, trionfante fai ritorno, no, ti prometto che un bel giorno trionfante fai ritorno, e lì rispecchiandomi nell'acqua io farò la lavandaia che vedendo chi in quell'entra le dirò il naviglio è vivo, non c'è stata la sentenza, le darò poi il benvenuto cospargendogli un alone è il profumo di Milano che sa sempre di barcone. E poi infine quest'altro sulla Madonnina, che questa è una bella poesia. Madonnina, hai saputo la sentenza? L'ha dettata la pazzia, ma han deciso la partenza, diventerò una via. L'han deciso in coro, distruggon ciò che i grandi han fatto. Quel che per Venezia è oro, per Milano è ferro matto. Dicono, ora Milano è grande, Milano ormai è fatta. L'ho trasportata io, cullandola sull'acqua. Per loro sono vecchio, or dai camion son serviti, le mie acque voglion morte, le sotterrano gli arditi. Non vedrò più i barconi, non vedrò più i miei ponti, dei milanesi il vanto. La mia acqua è un pianto. Come farai, oh Madonnina, tu che ti volti al chiar di luna per specchiarti nel laghetto come fosse la laguna. Su, non piangere Naviglio, gli eroi non batton ciglio. Ti prometto che un bel giorno, in San Marco, dove entri, ecco dove entri, in un mirabile museo trionfante, fai ritorno. Comunque, ripeto, è veramente, come dire, io credo che la fosse interna deve essere, come dire, deve essere riaperta. Sono un nostalgico, lo confesso, però è una bella iniziativa questa dell'architetto Boati e secondo me merita di essere sostenuta. Chiudo, ultima, veramente, chiudo veramente, facendovi vedere questa bellissima immagine, il laghetto di Santo Stefano, un quadro della fine dell'Ottocento, ma ne trovate tantissime altre immagini in questi volumi che vi ho detto, farvi vedere com'era il centro di Milano nella prima metà dell'Ottocento. Aspettiamo, ecco, guardate, questo è il laghetto, la via laghetto di oggi, a due passi dalla statale, questa è come era nella... venne chiuso il laghetto vicino alla statale, la via laghetto appunto era una, come dire, una zona dove i barconi sostavano per trasportare, per lasciare, come dire, le pietre, il marmo che serviva per la costruzione del duomo, venne chiuso negli ultimi anni della dominazione habsburgica nel 1857. Però era veramente la Milano, guardate anche quest'altra immagine, questo è il naviglio e la fossa interna, qui siamo all'altezza di via Francesco Sforza, vedete la Cagranda dove oggi c'è la statale, ecco, per intenderci questo è un altro esempio della Milano che fu e che io vorrei che fosse ancora, certo, non esattamente com'era una volta, però perlomeno, ecco, quest'altro era il ponte di Porta Ticinese, ecco, qui guardate la Porta Ticinese con il canale, insomma sono immagini che certamente dinanzi alle quali il vero milanese, ma anche senza essere milanese, una persona che insomma capisce che Milano era veramente un'altra città ed era una città completamente diversa da quella che è attualmente. Quindi forza a Boati e speriamo veramente di rivedere la fossa interna, è un sogno però, insomma, sono i sogni che spingono gli uomini a dare il meglio di sé.